salve a tutti con questa fine direzione io francesco fusillo e maurizio rangoni vogliamo spiegare come si collega una stampante wireless però nella modalità diretta al computer o pc smartphone tablet smartphone hanno bisogno del loro app consigliata dalla casa costruttrice della stampante ecco sì però è la condizione 1 diciamo del collegamento wireless perché la condizione 2 è il collegamento della stampante alla rete domestica wifi o alla rete di scuola e quindi va collegata all access point che distribuisce segnali internet allora queste due opzioni però non si regolano ne configurano dal pc ma dalla stampante perché la stampante ha un display che permette di configurare queste due condizioni eccolo lì questo è il display della stampante dove si può vedere che c'è la possibilità del ca della lan wireless diretto impostazioni comuni allora io ho impostato il wireless diretto diretto la password l'ho già impostata adesso esco da questo ambiente qua perché in realtà questa stampante adesso crea una piccola rete wireless che verrà agganciata dai dispositivi che la riconoscono allora adesso torniamo al pc ecco siamo tornati al pc e allora visto che abbiamo richiesto la connessione diretta vedrete che qui nel servizio reti di sotto e linux noi siamo sicuri che troveremo eccola qua le mie reti libera e tim e questa questa qui non è altro che la stampante con le sue o lo scanner insomma è una multifunzione giusto allora io mi collego e mi chiede la password che avevo impostato impostato sulla stampante allora la password è siccome la sbaglio di sicuro stefa non scrive non scrive stefagnalo a quali connetti adesso questo pc sarà connesso ecco la connessione stabilita alla rete wifi direct vsp9 e questa è la stampante il nome della stampante vista quindi pc in realtà adesso è connesso via cavo con la rete diciamo dati e connesso con la stampante via wifi wifi queste due connessioni funzionano contemporaneamente potrebbero anche funzionare contemporaneamente se fosse collegato alla rete wifi però per comodità l'abbiamo lasciato attaccato la rete la perché abbiamo appena aggiornato il pc e quindi allora cosa succede che io vado di nuovo nella configurazione delle stampanti che maurizio l'ha messo qua fuori per comodità ma noi potreste trovare o dal centro di controllo dove ci sono printers stampanti oppure lo possiamo trovare in sistema amministrazione stampanti come avete visto qua maurizio l'ha addirittura messo sulla pannella sulla scrivania per comodità perché adesso andiamo a spiegare sta roba qua allora adesso io aggiungo perché questa è una stampante collegata a usb che avevamo collegato prima adesso la devo mettere un'altra anche se è la stessa però certo i driver sono sempre quelli però la connessione è diversa usb e wifi sono due strade diverse quindi forse va sottolineata sta roba qua cioè che i driver devono esserci già installati che servono per gestire il dispositivo invece il percorso che fanno i dati sono diversi o porta usb quella precedente o wifi o stampanti di rete nel caso in cui le stampanti abbiano anche la connessione ethernet allora aggiungi diciamo che vogliamo aggiungere questa volta una stampante di rete allora siccome la rete è questa lui l'ha già riconosciuta eccola qua la stampante è già pronta la stampante eccola qua questa è la stampante che vogliamo no è quella sotto scusa cano eccola qua sì questa che ha la sua indirizzo allora fai notare che c'è l'indirizzo vicino 192 168 115 115 e l'ha assegnato ecco allora inoltre la richiesta quale? direte il driver ma noi sappiamo che c'è e quindi? e quindi ecco lì nome della stampante allora io per non sbagliare scrivo rete la scrivi sotto rete qui sotto opzioni posizione posizione wireless ecco wireless senza rete vediamo se riesco a cambiare il nome ecco ci metto W per ricordare quando sceglierò la stampa applica stampiamo la pagina di prova ok va bene la pagina di prova ok adesso bisogna aspettare un attimo che la stampante era ferma ed è partita ed è partita ecco la qua si può sentire il lavoro ecco che stampa adesso finché lei stampa l'errore non fateci caso ora da un errore ma no no non è vero perché la stampata eccola qua adesso vorrei far vedere che eccola qua io la stampante in quel cavo però non è connessa in questo caso non è connessa ecco ecco l'errore non c'è più perché l'avevo lanciata due volte completata vedete errore nella stampata invece non c'è no no allora questa è il W perché vuol dire che è quella wireless questa io ho messo W per una questione molto semplice quando vado ad aprire un documento qua scriverò stampa wireless e gli dico stampa per capire qual è la stampante che mi stampa ecco vedete stava stampando su quella che era sul cavo e non avrebbe stampato io ci ho messo W per ricordarmi che è quella wireless lo dico ok e adesso si aspetta un po' che è modalità wifi ecco qua errore di stampa però è perché ci impiega un po' a rendersi conto che la stampante sta lavorando quindi da prima sto errore e dopo la posizione stampa completata ecco che sta stampando ecco la stampa ok stampa wireless quindi questi sono i passaggi per il collegamento della stampante diretta attraverso la rete wifi della stampante direttamente l'altro l'altro l'altra modalità wifi è quella di collegare la stampante al router wifi o la gestione faremo una video lezione dedicata e questo sarà appunto l'argomento del stesso video per quel che riguarda i telefonini e tablet bisogna installarsi in un'app però bisogna andare a cercare col telefonino che purtroppo sto usando per fare il video andare a salire la scansione di rete fare la stessa cosa mettere la password e una volta che si è messo dentro il telefonino la password si è connessi la stampante un'app di stampa e si possono stampare le foto con la stampante senza capo quindi per video lezioni vi so di linux collegare una stampante wifi diretta alla stampante Francesco Fusillo e Maurizio Baranguni vi augurano buona sperimentazione ok